E condividiamo lo schermo, via. Ok, quindi ci siamo lasciati ieri parlando di effetto Hall nei semiconduttori e di risonanza di ciclotrone, in cui avevamo visto questi esperimenti in cui fissando la frequenza della radiazione elettromagnetica nell'ordine di alcuni gigahertz e poi modificando il campo magnetico si riesce ad andare a pescare le risonanze di ciclotrone, di semiconduttori, come dei picchi in cui viene assorbita della radiazione dalla cavità di microonde al semiconduttore. Volevo dire un paio di cose. Una è che, diciamo, sono esperimenti piuttosto difficili perché per avere queste risonanze è necessario che il tempo di collisione degli elettroni e delle lacune sia più corto del periodo di una rotazione di orbita di ciclotrone all'interno del semiconduttore, molto più corto se possibile, che tende a migliorare la forma dei picchi, quindi ad avere dei picchi con una risonanza bella stretta che permette di determinare queste frequenze con maggiore precisione. Allora, questa condizione di avere una vita media degli elettroni e delle lacune tra una collisione e l'altra particolarmente lunga implica la necessità di avere dei semiconduttori molto puri e a temperatura molto bassa. Capite bene che un semiconduttore molto puro e a temperatura molto bassa vuole dire essenzialmente pochi o niente elettroni in manda di conduzione o lacune in manda di valenza. Di fatto uno si trova in una situazione di avere un isolante e quindi di non riuscire a fare l'esperimento semplicemente perché non ha il campione, non ci sono gli elettroni, non ci sono le lacune, sono troppo poche le densità, è troppo piccola la densità degli elettroni e delle lacune. E vabbè, quindi come si può fare? In realtà il trucco è sì operare con semiconduttori molto puri a bassa temperatura ma illuminarli con della radiazione a una frequenza che corrisponde al gap di energia. Quindi in aggiunta a queste microonde sui decine di gigahertz ci si manda radiazione nel visibile o vicino infrarosso eccitando elettroni dalla banda di valenza alla banda di conduzione che per un po' rimangono lì prima di diseccitarsi e fin tanto che rimangono lì sono in grado di farsi questa fisica del ciclotone, diciamo, dell'essere messi su orbite di ciclotone dal campo magnetico e messi in moto dalle microonde. Poi l'altra questione è appunto che uno osserva ben più dei due picchi quello degli elettroni e quello delle lacune se non osserva più di uno e il motivo in realtà, insomma, è un po' diverso per elettroni e lacune. Gli elettroni tendono ad avere una legge di dispersione anisotropa. Se andate a vedervi il famoso PDF su cui tra l'altro ho aggiunto questa figura che vi ho mostrato ieri qua c'è anche quest'altra figura qua che riporta la struttura bande del silicio. Questo, diciamo, è il classico modo con cui negli articoli, nei libri si riportano le dispersioni delle bande nei cristalli. Siccome le bande sono delle funzioni di tre variabili Kx, Ky e Kz che hanno come risultato un'energia uno dovrebbe portarle a fare bene in uno spazio quadridimensionale cosa chiaramente impossibile. E quindi quello che si fa è tipicamente andare a selezionare all'interno della prima tronna di Bill Nguyen che nel caso dell'FCC è disegnata in questa figura qua andarsi a pescare un percorso di proprio gusto ci sono alcuni percorsi più o meno standard e seguirlo mostrando l'andamento di queste bande tagliandole lungo queste linee in spazio K. Qua, diciamo, vedete tutte queste letterine che sono indicate qua sotto stanno a indicare vari punti in questo spazio ad esempio γ vuole dire semplicemente K uguale a 0 x vuole dire semplicemente l'incrocio della direzione Kx con il bordo della prima zona di Bill Nguyen e così via le altre. E quindi, diciamo, seguendo questo percorso uno può tracciarsi le varie bande. In questa figura qua è stato scelto di mettere a 0 il massimo della banda di valenza e pertanto vedete che questo è proprio il gap cioè tra questo massimo e questo minimo qua e il gap di energia, in questo caso del silicio. Notate che il minimo della banda di conduzione del silicio si trova in un punto K circa casaccio tra γ e x quindi in questa figura qua che è appunto la prima zona di Bill Nguyen questo minimo si trova da qualche parte qui tra γ e x più vicino a x che è γ e in effetti in questa figura qua queste olivette blu riportano delle superfici a isoenergia corrispondenti a un po' sopra il minimo della banda di conduzione. Allora, il fatto che abbia questa forma appunto ellissoide suggerisce che la legge di dispersione di questi elettroni è anisotropa cioè spostandosi in questa direzione di K l'energia salga più lentamente che se uno si sposta nella direzione perpendicolare di K via dal minimo e quindi appunto questo corrisponde ad avere delle masse efficaci che sono dei tensori anisotropi per l'appunto con masse principali con componenti principali nelle varie direzioni diverse e pertanto avendoci appunto questa anisotropia quando si va a fare gli esperimenti di risonanza di ciclotrone si va a trovare delle risonanze diverse corrispondenti alle diverse masse efficaci degli elettroni. Dal punto di vista invece delle lacune in realtà la situazione è molto più isotropa non è perfettamente isotropa ma circa sì il massimo della banda di valenza sta a K uguale a zero che è il punto di alta simmetria nella zona di Quelluen quindi qui diciamo c'è una maggiore isotropia l'inghippo è che in realtà le bande di valenza sono legate a elettroni degeneri elettroni moralmente che vengono dal dal P dagli orbitali P del silicio e quindi alla fine uno si trova che non è vero che siamo solo a banda di valenza ce ne sono in realtà due e entrambe arrivano alla stessa energia a K uguale a zero ma si trovano con curvature diverse e quindi con diverse masse efficaci quindi le masse efficaci in realtà sono due diverse che danno origine per l'appunto a due diversi picchi per le lacune quindi vedete anche diversi di un fattore tipo 4 ok quindi questa è un attimino la situazione per questi esperimenti in cui uno riesce a misurare direttamente le masse efficaci e addirittura il tensore di masse efficaci quindi se uno va a fare l'esperimento di risonanza di ciclotrone cambiando la direzione del campo magnetico e del campo elettrico che eccita gli elettroni e le lacune rispetto alle direzioni principali del cristallo può andare a mappare la massa efficace nelle varie direzioni quindi andare a vedere l'anisotropia della massa efficace d'accordo? Però vabbè diciamo questi sono un po' dettagli specialistici invece l'argomento successivo a cui volevo un attimino avvicinarmi è quello delle densità di non equilibrio dei portatori cioè finora noi abbiamo studiato la situazione all'equilibrio ma uno vuole andare a vedere anche che succede quando uno cerca di perturbare dall'equilibrio questa densità quindi cerca di iniettare degli elettroni della lacuna spostando le densità dei portatori dall'equilibrio allora per descrivere questa situazione andremo a considerare la situazione di deboli perturbazioni cioè non è che immagineremo di rivoluzionare completamente le densità dei portatori rispetto al valore dell'equilibrio penseremo di aggiungerci delle piccole perturbazioni quindi se chiamiamo n0 e p0 le densità dei portatori all'equilibrio quelle che abbiamo determinato la volta scorsa sulla base di questa serie di ragionamenti praticamente della neutralità di carica sostanzialmente immagineremo che a un dato istante di tempo e a una data posizione x vi sia una modificazione di questi valori d'equilibrio data da queste quantità che sono chiamate n' e p' quindi queste sono le deviazioni locali e funzione del tempo delle concentrazioni dei portatori dimensionalmente sono tutte sempre delle concentrazioni quindi sono delle lunghezze alle meno 3 tutte quante queste quantità qua per semplicità immagineremo di stare in un semiconduttore omogeneo quindi tutto drogato uguale dappertutto e in cui i cambiamenti di questa densità dipendono solo da una variabile x magari di tanto in tanto vi accenderò che succede come cambia le equazioni se dipendono anche da y e da z non è che cambia molto va bene allora l'idea è appunto che immagineremo che queste perturbazioni qua siano piccole piccole rispetto a cosa ma piccole rispetto alla densità dei portatori di maggioranza è difficile essere piccoli rispetto alla densità dei portatori di minoranza che è spesso mostruosamente piccola molti molti moltissimi odini di grandezza più piccola di quelli di maggioranza nella maggior parte delle situazioni di cristalli drogati e quindi in realtà appunto la nostra assunzione è che queste perturbazioni siano più piccole rispetto alla densità dei portatori di maggioranza per esempio se consideriamo un semiconduttore drogato N immagineremo che sia N' e P' siano molto più piccoli della concentrazione N0 degli elettori naturalmente questo vuol dire che P' potrebbe essere molto più grande di P0 che è comunque mostruosamente piccola ok adesso vediamo un attimino come riusciamo a descrivere con che equazione riusciamo a descrivere le variazioni di queste quantità N e P quindi in pratica N' e P' primo perché una volta che non sa le 1 sa anche le altre va bene allora ci sono vari processi che possono portare a cambiamenti di queste quantità il primo tipo di processi elencato qua è quello della ricombinazione cioè se noi consideriamo un certo volumetto del nostro cristallo avremo senz'altro che degli elettroni che stanno in un certo dato istante nella banda di conduzione hanno una certa probabilità di incontrare una lacuna nella banda di valenza e ricombinarsi e quindi diciamo portarsi portarsi nello stato energia più bassa decadendo questa ricombinazione può avvenire per esempio con un meccanismo radiativo quindi emettendo un fotone o anche con altri meccanismi per esempio mediati da difetti tipicamente difetti che se ne stanno dentro in mezzo al gap che danno dei livelli che stanno dentro in mezzo al gap quindi non difetti come i livelli dei donori e degli accettori i quali stanno molto vicini alla banda di conduzione o alla banda di valenza ma difetti che stanno che danno dei livelli dentro in mezzo al gap sono molto efficaci per dare scattering e permettere la ricombinazione degli elettroni analogamente anche le superfici del cristallo possono aiutare questa ricombinazione che comunque può avvenire in ogni caso spontaneamente per via radiativa analogamente ci saranno dei processi di generazione noi siamo a temperatura finita e quindi a ogni dato istante c'è una certa probabilità che un elettrone della banda di valenza venga promosso alla banda di conduzione lasciando quindi una lacuna in banda di valenza quindi di fatto una creazione di una coppia elettrone e lacuna questo è un processo termico l'energia necessaria è fornita casualmente dalle fluttuazioni termiche e quindi diciamo questi due processi ricombinazione e generazione sono proprio quelli che in condizioni normali all'equilibrio termodinamico tendono a portare le vostre occupazioni degli stati fermionici verso la distribuzione ed equilibrio di fermi quindi sono proprio questi processi spontanei che determinano la distribuzione di equilibrio se li lasciate operare per un po' di tempo ok naturalmente questi sono processi appunto locali che avvengono in ogni pezzo del cristallo e decideremo che questi g e questi r questi tassi di generazione di ricombinazione sono definiti come appunto un tasso di generazione per unità di volume quindi si misurano in 1 fratto secondi fratto metri cubi e analogamente il pezzo di ricombinazione ok in modo tale che se noi prendiamo un certo volumetto lo moltiplichiamo moltiplichiamo g per il volume considerato otteniamo precisamente il numero di eventi di generazione di ricombinazione per unità di tempo il volume sarà dato visto che tutto dipende solo da x prendendo semplicemente l'area trasversa nella direzione perpendicolare a x quindi y e z e moltiplicandola per delta x questo mi dà il volumetto in considerazione bom oltre a questi processi locali avremo dei processi che portano elettroni e lacune dentro o fuori dalla vostra regione allora il primo tipo di processi di questo tipo sono i processi di diffusione i processi di diffusione sono legati al fatto che i portatori di carica si possono muovere dopo tutto e si muovono come un gas termico e quindi di fatto questi movimenti casuali simili a quelli di un gas classico termico determinano una corrente diffusiva che è proporzionale ai gradienti di densità cioè un gas per via semplicemente dei suoi moti casuali tende a diffondere in modo tale ad andare a riempire i buchi di densità cioè se c'è una regione in cui la densità è istantaneamente localmente più bassa ci sarà una prevalenza di flusso verso l'interno di quella regione di particelle che si muovono a casaccio rispetto al flusso verso l'esterno il che piano piano tende a ristabilire una densità uniforme e questo flusso risulta essere proporzionale ai gradienti di densità quindi c'è una costante che qua si chiama D con E per gli elettroni e D con H per le lacune la quale vi dà conto di questa tendenza a riportarsi all'equilibrio una costante di proporzionalità questo appunto è il normale moto diffusivo del gas le unità di misura di questa costante le potete ottenere tenendo conto che questa corrente J è una corrente di numero e anche questa J H naturalmente sono delle correnti di numero cioè vi dicono il numero di elettroni nel primo caso e lacune nel secondo caso che attraversano questa superficie per unità di tempo quindi attenzione anche se si chiamano J non sono correnti elettriche ma sono correnti di numero quindi sono in unità di secondi alla meno 1 metri alla meno 2 cioè elettroni al metro al metro quadro al secondo che attraversano la superficie e diciamo dato appunto che quelli là sono elettroni al metro quadro al secondo e dato appunto che la formuletta che vi dà queste correnti di numero si ottiene moltiplicando una D per un gradiente della densità rispetto alla posizione le unità di questo D devono essere una lunghezza al quadrato diviso un tempo perché abbiamo detto J sono inverso di un tempo per una lunghezza al quadrato questo dn in dx è un inverso di una lunghezza alla quarta e quindi questo D deve poter essere una lunghezza al quadrato diviso un tempo ok? Quindi queste sono le unità di questa costante di diffusione o di queste costanti di diffusione ok quindi l'idea è che questo J determinerà una corrente di diffusione proporzionale con un segno meno alla derivata rispetto n della densità degli elettroni quindi sarà una corrente che va verso destra se la densità è più bassa qui che qui o viceversa e che vi dà appunto una variazione del numero totale di elettroni che c'è qua che ottenete prendendo questa corrente e moltiplicandola per l'area questo vi darà il tasso di variazione del numero di elettroni che sta in questa regione qua quando lo fate su questa superficie qua naturalmente non ci sarà solo l'attraversamento di elettroni che passa attraverso questa superficie ma ci sarà anche un attraversamento di elettroni che passa fuori da quest'altra superficie e quindi dovrà tenere conto anche di questo altro termine qua che è uguale a questo tranne che ha segno opposto perché quelli che vanno verso destra di qui entrano e di qui escono e allo stesso tempo sarà calcolato in un posto leggermente diverso mentre questa quantità qui è calcolata ad x questa quantità qua questo gradiente di n rispetto a x sarà calcolato alla faccia esterna del volume quindi a x più delta x ok oltre a questo termine di moto casuale vi è anche un termine di moto di moto sistematico di moto nel campo elettrico e questo termine qua è dovuto al fatto che questi portatori sono appunto delle particelle cariche e un qualunque campo elettrico esterno tenderà a spingere da una parte o dall'altra e quindi questi termini i quali andremo a scrivere come li abbiamo già scritti poi in passato come una corrente numero uguale meno n per la mobilità di portatori corrispondenti volte il campo elettrico notate che se fosse stata una corrente elettrica qui avrei dovuto aggiungerci anche la carica avrei dovuto mettere meno qe qui davanti e quindi il contributo di corrente elettrica degli elettroni sarebbe stata qe per n per mu e volte il campo elettrico ma questa è una corrente numero quindi manca un meno qe ovviamente questa formula qua vi dice che se il campo elettrico è diretto verso destra la corrente verrà indotta verso sinistra viceversa per le lacune hanno carica positiva e quindi vanno dalla stessa parte che gli dice il campo elettrico ora queste sono le correnti appunto che attraversano la singola superficie come vi dicevo uno deve andare a fare la differenza tra quelle che entrano dalla superficie a destra e quelle che escono dalla superficie a sinistra per l'appunto facendo questa differenza quella che prima era una derivata prima diventa in pratica una derivata seconda perché uno in pratica ha la derivata della corrente rispetto a x per delta x qua hanno scritto dx ma dovevano scrivere delta t delta x in principio comunque va bene alla fine è quello che poi uno manderà a zero e di fatto vedete vi trovate una derivata seconda della densità rispetto a x è chiaro come mai? questa derivata seconda nasce dal fatto che uno va a vedere la differenza di flusso qua e qua e quindi uno deve vedere come cambia questa corrente diffusiva rispetto alla superficie lato ok analogamente naturalmente sul termine di correnti date dal campo elettrico questo vi dà una derivata di questa j rispetto a x per il solito delta x e quindi vi viene una derivata del prodotto n per e nel caso degli elettroni e analogamente p per e nel caso delle lacune rispetto a x ora diciamo tutto ciò l'abbiamo scritto pensando che tutto dipenda solamente da x se ci fosse anche dipendenza da y e da z semplicemente in queste formule qua avremo dei gradienti invece che delle semplici derivate rispetto a x sono dei gradienti e la corrente va nella direzione di massima pendenza della densità in discesa e poi queste derivate seconde rispetto a x diventerebbero dei laplaciani quindi questi termini diffusivi vi danno termini di laplassa nell'equazione e infine questa derivata rispetto a x della densità per il campo elettrico si tradurrebbe in una divergenza di questo campo elettoriale ok vabbè mettendo insieme tutto quanto dividendo per l'area e per il delta x che sono dei fattori comuni alla fine uno si trova con un'equazione che si chiama equazione di continuità cioè un'equazione che vi dice che la variazione nel tempo del numero di elettroni che ci sono in questa fettina moltiplicata per il volume quindi per le cose quindi di fatto la variazione della densità degli elettroni in questa regione di spazio è data dalla somma di quattro termini il termine di generazione meno il termine di ricombinazione il termine di generazione aumenta la densità degli elettroni e il termine di ricombinazione la riduce più un termine diffusivo che è un laplaciano della densità più un termine dovuto al campo elettrico che è proporzionale a questa divergenza della densità degli elettroni per il campo elettrico con un coefficiente di proporzionalità che in questo caso è la diffusività degli elettroni e in questo secondo caso è la mobilità degli elettroni l'analoga l'analoga formula per le lacune ha esattamente gli stessi termini per la generazione la ricombinazione e la diffusione tranne che il coefficiente di diffusione sarà in generale diverso e la differenza principale è quella di averci un segno meno qua sul termine di accoppiamento col campo elettrico esterno va bene ok adesso uno guarda queste sono le equazioni di continuità e come dire nessuna carica nasce dal nulla ogni nascita o ogni distruzione di carica ha un buon preciso motivo e i motivi sono indicativi guardando queste equazioni qua vi accorgete che hanno l'aria di essere completamente disaccoppiate c'è un'equazione per n c'è un'equazione per p e non hanno l'aria di parlarsi minimamente quindi uno può pensare erroneamente che elettroni di alcune facciano i cavoli loro senza interagire minimamente l'uno con l'altro gli uni con gli altri e non è così no non è così perché in realtà c'è qualcosa che accoppia queste equazioni e questo qualcosa è il campo elettrico c'è un solo campo elettrico che agisce sia sugli elettroni che sulle lacune e elettroni e lacune stesse sono loro stessi sorgenti di campo elettrico sono particelle cariche tramite questa loro carica si accoppiano tra di loro e interagiscono tra di loro e adesso vediamo un attimino come allora chiaramente chiaramente diciamo la generazione di campi elettrici dovuta a accumuli di carica all'interno del cristallo seguirà le leggi di Maxwell oltre a questi campi elettrici ci saranno eventualmente campi elettrici esterni prodotti da cariche esterne al cristallo ma in aggiunta a questi esterni che uno può pensare fissati senz'altro ci sono campi elettrici generati dalle cariche all'interno del cristallo queste cariche all'interno del cristallo hanno una densità di carica rho che è data dalla carica elementare volte la solita la solita diciamo quantità che è la densità delle lacune nella banda di valenza la densità dei donori ionizzati positivamente meno la densità degli elettroni in banda di conduzione meno la densità degli stati di accettore che sono ionizzati con un elettrone allora naturalmente diciamo questa ve la ricordate questa quantità qua è la quantità che è supposta essere zero all'equilibrio è quella che abbiamo messo uguale a zero per ricavarci la posizione del potenziale chimico all'equilibrio ieri naturalmente diciamo quella condizione di equilibrio vi determina i valori di n0 e p0 che sono quelli che stavano qua n0 e p0 questi sono quelli di equilibrio noi in questo momento stiamo descrivendo una situazione di fuori equilibrio in cui ci sono queste deviazioni n' n' e p' che possono portare ad avere una densità di carica diversa da zero istantaneamente in ogni dato posto va bene quindi quell'equazione lì quella densità di carica fa zero quando al posto di n e p andiamo a mettere n0 e p0 ma in generale quando ci metto n e p ottengo una cosa diversa da zero ma questo cosa mi sta a dire anche ma mi sta a dire che uno può tranquillamente semplicemente rimpiazzare questi questi n e questi p con n' e p' perché tanto tutti gli altri termini devono per forza andarsi a compensare per la definizione di equilibrio quindi in pratica se qua dentro scrivo al posto di p p0 più p' al posto di n n0 più n' tutto quanto i vari termini tranne p' e n' vi danno zero messi insieme che è la condizione di neutralità di carica di cui abbiamo parlato la volta scorsa quindi sostanzialmente gli unici contributi alla densità di carica sono dati appunto dalle deviazioni dall'equilibrio della densità delle lacune e degli elettroni ovviamente moltiplicate per la carica alimentare in modo che questa avenga una densità di carica come dovrebbe essere una volta che avete la densità di carica punto per punto dentro al vostro cristallo di semiconduttore potrete utilizzarla tramite la legge di Gauss alla legge della divergenza insomma legge di Maxwell di fatto per ricavarvi il campo elettrico in questa situazione in cui tutto dipende solamente da x la divergenza del campo elettrico è semplicemente d e diretto lungo x in d x niente dipende da y e da z e quindi questo vi dà semplicemente che la derivata rispetto a x del campo elettrico fa la carica elementare volte questa differenza tra p' e n' divisa per y y 0 y sarebbe la costante di elettrica relativa che in questi semiconduttori è dell'ordine di 10 o 16 qualcosa del genere va bene ok allora vediamo un attimino come questa questa repazione qua va diciamo questo accoppiamento tramite campo elettrico va a modificare le equazioni che abbiamo visto prima cominciamo a considerare per prima l'equazione per i portatori di maggioranza che per esempio potremmo immaginare essere elettroni quindi supponiamo di essere in una situazione di semiconduttore drogato n uno può rifare poi tutto il ragionamento per il caso del semiconduttore drogato p va bene allora come si modificano le equazioni beh diciamo quando andate a sostituire dentro questa cosa qua nell'equazione che abbiamo scritto prima questa ci sono vari cambiamenti diciamo che si può fare prima di tutto osserviamo che tutti gli n li possiamo andare a rimpiazzare come n0 più n' e le derivate rispetto al tempo e anche rispetto allo spazio dell'n sono soltanto agiscono soltanto sulla parte n' perché la parte n0 è una costante sia rispetto al tempo che rispetto allo spazio quindi in pratica al posto di n possiamo scrivere tranquillamente n' quando c'è una derivata g-r lo ricoppiamo qui c'è un'altra derivata quella seconda quindi qua ci mettiamo n' lasciamo perdere l'n dopodiché il quarto termine riguardiamolo un attimo c'è dentro la derivata rispetto a x del prodotto n per e e quindi dobbiamo fare la derivata di un prodotto quindi ci sarà una derivata rispetto a x della n volte e più e volte la derivata di n rispetto a x d'accordo? derivata del prodotto quando derivate rispetto a x di nuovo conteranno solamente i termini con n' ok quindi diciamo questo è il termine in cui ho derivato rispetto a x e quindi giustamente qua metto n' e non n e qui davanti lascio un mu per e poi c'è il termine in cui appunto devo fare la derivata rispetto a a x del campo elettrico e il risultato già lo so lo vengo dall'equazione di Gauss eccola qua sopra quindi avrò mu per n volte e per p' meno n' diviso epsilon epsilon 0 a questo punto mi accorgo che il campo elettrico è proporzionale a queste quantità p' n' quindi questa n che c'è qua c'è dentro un termine n0 e un termine n' il termine n' abbiamo supposto essere molto molto più piccolo del termine n0 quindi in pratica quando poi vado a moltiplicare per questi p' n' ottengo un termine di ordine quadratico quindi tendenzialmente trascurabile molto molto più piccolo del termine n0 quindi sostanzialmente qui non c'è motivo di lasciare n tanto vale sostituire n0 all'ordine più piccolo qua diciamo loro se ne sono infischiati ma è il caso di farlo va bene a questo punto questa equazione qua la si può andare a semplificare in realtà diciamo ci si accorge che i termini di generazione e di ricombinazione sono molto lenti molto piccoli e si può in sostanza trascurarli lo vedremo fra un momento insomma come mai ma in pratica potete credermi non fa gran differenza trascurarli a questo livello quindi per i portatori di maggioranza i termini generazione e ricombinazione li possiamo al momento omettere a questo punto conviene andarsi a scrivere in questa stessa equazione rimoltiplicando per il fattore qua che sta davanti a p' meno n' in questo modo qua si si ottiene questo fattore qua cioè epsilon epsilon 0 diviso mobilità per la densità per la carica elementare qui davanti la derivata rispetto al tempo quindi ci sarà qui un fattore davanti alla derivata rispetto al tempo poi ci sarà p' meno n' e poi di nuovo questo termine qua va a combinarsi con questa termine d e quindi si formerà un nuovo fattore qui davanti al termine delle derivate seconde rispetto a x allora per ovvie ragioni dimensionali siccome questa è una densità qui c'è una derivata rispetto al tempo di una densità questo termine qua dovrà essere per forza un tempo analogamente questa è una derivata seconda rispetto allo spazio della densità e necessariamente quindi il coefficiente che c'è davanti dovrà per forza essere il quadrato di una lunghezza allora in effetti queste quantità appunto tau d e lambda d sono i tempi e le lunghezze caratteristiche per i moti dei portatori di maggioranza nel semiconduttore e prendono il nome di tempo di rilassamento di elettrico o tempo di Debye se vogliamo e di lunghezza di Debye nelle formule che li determinano che si ottengono come vi ho detto invertendo questa cosa qua moltiplicando per ε x0 diviso mu n per e la n in realtà sarebbe n0 cioè è n0 è la concentrazione d'equilibrio dei portatori di maggioranza e l'altra osservazione che uno può fare è che in effetti questa lambda d questa lunghezza di Debye la potete scrivere anche semplicemente come il d è la costante di diffusione per il tempo di Debye alla un mezzo vi ricordo che la costante di diffusione è una lunghezza al quadrato diviso un tempo quindi quando la moltiplicate per un tempo ottenete una lunghezza al quadrato quindi la sua radice è giustamente una lunghezza e analogamente anche qua se voi andate a controllare per bene l'unità di misura vi accorgete che questo giustamente viene un tempo tra l'altro si può scrivere questo tempo di Debye come y y 0 diviso la mobilità dei portatori ok quindi in questa forma qua leggermente semplificata l'equazione dei portatori di maggioranza vi dà un'idea qualitativa abbastanza efficace di come si comportano questi portatori di maggioranza non è che dobbiamo proprio andare a risolverla questa equazione valutiamo un attimino quanto sono sia il tempo di elettrico quanto il tau d e sia la lunghezza di Debye per questo sistema allora qua diciamo uno può andare a prendersi una conducibilità tipica diciamo dell'odio del centinaio di uno fratto ohm metro e poi sicuro può andarsi a prendere i valori appunto noti dell'epsilon y0 e y dell'ordino di una decina per l'appunto y0 circa 10 al meno 11 il risultato viene all'incirca 10 al meno 12 secondi dell'ordine del picosecondo quindi sono tempi estremamente brevi analogamente possiamo utilizzare la l'equazione di Einstein di cui non ho tempo di starvi a parlare più di tanto ma diciamo vi permettono di stimare questo tempo di diffusione utilizzando quello che si chiama il teorema di fluttuazione e dissipazione tanto per brevemente dare un'occhiata vediamo cosa dice Wikipedia sulle relazioni di Einstein di fluttuazione e dissipazione vedete vi viene specificato che questo coefficiente di diffusione è uguale mu per kb per t di fatto questa relazione di Einstein mette in relazione questa costante di diffusività che di fatto descrive i processi di rilassamento d'equilibrio con mu la mobilità che corrisponde alla risposta lineare di un sistema quando ci applichiamo delle forze esterne notate che questa formula qua è leggermente diversa da quella che c'è scritta qua qui c'è una e che lì non c'è e il motivo è che la mobilità come l'abbiamo definita noi qua nel contesto dei semiconduttori è una mobilità per risposta a un campo elettrico esterno quindi è una velocità divisa un campo elettrico mentre la mobilità come è definita qua come spesso si fa in questo contesto di particelle neutre tipicamente è il rapporto tra la velocità acquisita delle particelle rispetto alla forza applicata quindi mu uguale v drift diviso forza quindi questa è la differenza ma diciamo è una differenza ben nota e ben chiara e per l'appunto diciamo se poi andate avanti a leggere vi trovate pure una dimostrazione che vi dà un'idea di come mai succede questa fisica e sono questioni di statistica di equilibrio standard ma diciamo uno dei teoremi più importanti della statistica di equilibrio diciamo in questo modo qua uno può stimarsi a temperatura ambiente e usando mobilità tipiche degli elettroni nei semiconduttori quant'è l'ordine di grandezza di questa lunghezza di Debye e se uno lo fa diviene fuori per cosa dell'ordine di una quarantina di nanometri quindi una lunghezza decisamente piccola diciamo dell'ordine di poche decine di spaziature reticolari quindi sostanzialmente questo vi dice che l'equazione per i portatori di maggioranza è un'equazione estremamente attiva estremamente veloce e robusta che in tempi molto brevi e su distanze molto piccole tende a fare cosa? Questa è la pressione cruciale tende a abbattere questo termine qua cioè supponete che avete un P' meno N' positivo cioè che avete più deviazioni dall'equilibrio della concentrazione dei portatori di minoranza rispetto ai portatori di maggioranza quindi di fatto avete in un certo posto un accumulo di cariche positive e lì ci sono delle cariche positive cosa vi dice questa equazione? Ma vi dice che su scale di tempi dell'ordine di questo tempo di diffusione del picco secondo immediatamente avrete una derivata rispetto al tempo della N che è positiva quindi avete un tentativo di aumento della N e quindi questa N rapidamente tende a crescere e portarsi verso il valore di P' Allo stesso tempo avete questo termine diffusivo per cui se avete diciamo una buca in cui c'è meno densità di cariche quindi avete una regione in cui c'è un minimo di questa densità questa regione avrà una curvatura positiva e quindi ci sarà un influsso di portatori verso questo buco per andare a riempirlo di nuovo la derivata sarà positiva viceversa se uno si trova ad avere un eccesso di cariche di portatori elettroni rispetto alle lacune quindi N' più grande di P' questo coefficiente questa quantità risulta negativa e quindi avete una diminuzione della concentrazione degli elettroni che tende a riportarvi verso il valore di P analogamente un picco nella densità dei portatori in un certo posto quindi una regione in cui ci sia localmente un accumulo di elettroni in accesso rispetto al valore di equilibrio vi determinerà una derivata seconda negativa vicino a un massimo una derivata seconda negativa e quindi questo tenderà a spiattare rapidamente questo accumulo di densità d'accordo quindi in pratica cosa fa questa equazione questa equazione su tempi dell'ordine del picco secondo e su distanze di qualche decina di nanometri tende a riportare la densità dei portatori di maggioranza verso la densità dei portatori di minoranza quindi in qualche modo questa equazione rende i portatori di maggioranza schiavi dei portatori di minoranza diciamo alla fine molto rapidamente questi portatori di maggioranza devono ricondursi riportarsi velocemente verso la distribuzione dei portatori di minoranza che c'è in quella regione lì ok diciamo questo è l'andamento qualitativo previsto da questa equazione qua a questo punto utilizziamo la seconda equazione quella dei portatori di minoranza quindi cerchiamo di capire cosa ci dice questa equazione qua riscriviamo l'equazione completa quindi per esempio in un semiconduttore di tipo P i portatori di minoranza sono gli elettroni quindi l'equazione per n o in un semiconduttore di tipo n è l'equazione per i P per le lacune l'equazione completa nel senso che ci teniamo dentro anche i termini di generazione e ricombinazione che adesso discutiamo in dettaglio e ci rendiamo conto del come mai era sensato trascurarli prima per i portatori di maggioranza allora l'equazione formalmente è simile a prima insomma c'è gli stessi quattro termine e naturalmente diciamo la novità rispetto a prima è che su scale di tempi più adatte a questa equazione che adesso valuteremo fra un attimo dobbiamo assumere che i portatori di maggioranza si siano sbrigati a sistemare a eliminare qualunque accumulo di carica quindi di fatto questi portatori di minoranza si muovono istantaneamente o quasi istantaneamente in un mondo neutro in un mondo neutro rho è uguale praticamente a zero sulla loro scale di tempi e quindi e il campo elettrico gli risulta sempre costante non possono esserci derivate del campo elettrico rispetto allo spazio perché ci sono già gli elettroni di maggioranza che hanno ricoperto qualunque squilibrio di carica seguendo la loro equazione quindi in pratica questo termine e rispetto a prima c'è la novità che di fatto non ha delle derivate e quindi questo fa sì che scompaia il termine quello che c'era dentro appunto d in dt quando fate questa derivata c'è un termine con d in dt e questo è stato eliminato dai portatori di maggioranza va bene ah naturalmente appunto qua diciamo loro dicono che non ci sono gradienti di e ma ovviamente per gradienti si intende veramente la divergenza di e è uguale a zero ok quindi questo diciamo pone la base di queste equazioni qua e forse è un buon momento per fare pausa a questo punto poi andremo a discutere in dettaglio questi termini di generazione e di ricombinazione ci sono domande ok stavamo discutendo il motto dei portatori di minoranza che appunto si trovano a muoversi in un campo elettrico costante dovuto eventualmente a forze esterne campi elettrici esterni ok allora i due termini nuovi sono appunto quelli di generazione e ricombinazione che avevamo praticamente trascurato per i portatori di maggioranza ora chiaramente questi due termini G ed R potranno dipendere a priori dalle variazioni N' e P' delle concentrazioni dei portatori fuori dall'equilibrio e varieranno rispetto dei valori d'equilibrio quindi all'equilibrio avremo dei termini che chiameremo G0 e R0 ora consideriamo per il momento G il termine di generazione la generazione descrive l'eccitazione di elettroni dalla banda di valenza verso la banda di conduzione ed è un'eccitazione casuale termica dovuta semplicemente a fenomeni appunto casuali legati appunto al moto termico dei fononi degli elettroni eccetera ora queste eccitazioni dipendono dal fatto di averci a disposizione degli elettroni della banda di valenza ma questi elettroni a disposizione della banda di valenza e così anche gli stati vuoti della banda di conduzione verso cui possono venire eccitati gli elettroni ci sono circa sempre la loro quantità è virtualmente infinitamente più grande sia delle concentrazioni degli elettroni in banda di conduzione sia della concentrazione delle lacune in banda di valenza qualunque anche grande perturbazione al numero di elettroni in banda di conduzione o al numero di lacune in banda di valenza non influenzerà significativamente il tasso di generazione perché tutte queste concentrazioni di portatori sono di gran lunga piccole anche soprattutto rispetto rispetto appunto a queste enorme densità di elettroni della banda di valenza rispetto a cui sono trascurabili sia n' che p' ma perfino n'0 e p' non importa sono tutti completamente trascurabili quindi qualunque sia queste deviazioni n' c' di fatto g continua sempre a coincidere con g0 ed è funzione solamente della temperatura viceversa invece la ricombinazione è un processo più complicato è un processo più complicato perché si possa ricombinare un elettrone dalla banda di conduzione alla banda di valenza ci ha bisogno di due cose bisogna che prima di tutto l'elettrone ci sia ma poi anche che si trovi un posto dove andare a finire cioè che ci sia una lacuna nella banda di valenza quindi di fatto potremmo immaginare che questo processo sia di fatto proporzionale a quanti elettroni ci sono a disposizione quindi alla densità degli elettroni e a quante lacune ci sono a disposizione la densità quindi anche delle lacune se la banda di valenza è completamente piena per quanti elettroni ci siano la probabilità di ricombinarsi sarà zero perché non c'è posto dovrebbe ricombinarsi principio di Paoli e pertanto andremo a definire una costante k di t la quale una costante si fa per dire una funzione k di t naturalmente la quale vi dà il tasso di ricombinazione per unità di densità di portatori in banda in banda di conduzione e di riportatori in banda di valenza quindi ricordatevi se il g e l'r i tassi di generazione di ricombinazione rendati in inverso di tempo inverso di volume questa k qua che vi deve dare un r quando moltiplicata per n e per p deve essere in unità di un inverso di tempo per un volume naturalmente questa k di t dipenderà dalla temperatura ma in ottima approssimazione sarà indipendente dall'università n e p ok a questo punto potremmo andarci a scrivere la differenza g meno r che è la quantità che entra poi nell'equazione come il termine g zero indipendente dalle concentrazioni volte meno il termine appunto di ricombinazione che invece è proporzionale sia n che a p a questo punto sostituiamo sia al posto di n che al posto di p la sua espressione come n zero più n primo p zero più p primo come scritto qua e a questo punto osserviamo naturalmente che i termini risultanti all'equilibrio cioè k di t per n zero per p zero che è proprio il tasso r zero d'equilibrio dovrà per forza cancellare il tasso di generazione all'equilibrio all'equilibrio tante eccitazioni e quante disecitazioni avvengono ci si trova in una regime estrazionaria quindi questi due termini si cancellano e rimangono soltanto i termini i termini altri gli altri tre termini da questo prodotto quindi un n zero più primo un p zero n primo e un n primo più primo allora dicevamo già prima che i termini col primo sono piccoli quindi qualunque termine primo per primo sarà di ordine quadratica e quindi trascurabile quindi questo termine qua lo si trascurerà sempre tra questi due termini qua in ogni caso uno dei due sarà trascurabile in un semiconduttore drogato n questo termine sarà importante perché n zero è grande ma p zero è piccolissimo quindi questo termine sarà comunque trascurabile in un semiconduttore drogato p invece questo termine sarà quello importante e questo sarà completamente trascurabile voilà quindi di fatto anche se qua ci sono tre termini ce n'è sempre uno solo che veramente conta in questo termine qua di g meno r quindi di fatto quello che c'è dentro la densità zero dei portatori di maggioranza quindi in un materiale tipo n avremo meno k di t n zero per p primo e nell'altro meno k di t p zero n primo per il materiale di tipo p la quantità k di t per n zero ha dimensioni di un inverso di tempo naturalmente è un k di t che è appunto un volume diviso un tempo se lo moltiplicate per una densità vi viene un inverso di tempo che vi dà il tempo caratteristico di ricombinazione in quel in quel semiconduttore in quelle condizioni quindi sostanzialmente introdurremo questi tempi che chiameremo tau n in un semiconduttore di tipo n che vi dà la vita media dei portatori di minoranza cioè per quanto tempo se voi riuscite a mettere dei portatori di minoranza per quanto tempo in media questi riescono a sopravvivere prima di ricombinarsi con un portatore di minoranza nel caso del semiconduttore di tipo n si chiama tau n nel caso del semiconduttore di tipo p si chiama tau p attenzione a questo punto abbiamo tanti tempi quindi non vi do stare attenti a non fare confusione tau n e tau p non vanno confusi né con i tempi di scattering cioè le vite medie di questi portatori tra una collisione e l'altra né con il tempo di elettrico quello di cui abbiamo parlato prima legato alla lambda d per i portatori di maggioranza in effetti questi tempi qua sono molto molto più lunghi adesso vedremo subito quanto sono quindi di fatto in termini di questi tau p e tau n le equazioni per i portatori di minoranza le andiamo a riscrivere in questa forma qua in cui siamo andati a riscrivere questi termini qua ora vedete che sono delle equazioni di nuovo di tipo diffusivo in cui c'è un termine che è un termine che punta a zero vedete è un termine simile a quello che avevamo trovato nelle equazioni per i portatori di maggioranza eccola qua solo che questo termine qua nel portatore di maggioranza potete scriverlo dividendo per tau d qua se volete è un termine che su una scala di tempi estremamente breve tau d tende a riportare la densità dei portatori di maggioranza verso quella dei portatori di minoranza invece nell'equazione per i portatori di minoranza questo termine qua è un termine che su un tempo molto più lungo tau p tende a riportare la densità dei portatori di minoranza verso zero o meglio le deviazioni dall'equilibrio delle densità dei portatori di minoranza verso zero quindi tende a riportare verso la normale situazione di equilibrio oltre a questo termine qua che è quello più importante dell'equazione che dice dove si vuole andare a finire e poi ci sono diciamo dei termini diffusivi e legati ai campi elettrici che possono spostare questi portatori il valore il valore di questa vita media dei portatori di minoranza è dell'ordine diciamo di 10 a meno 7 secondi quindi una frazione di microsecondo quindi tanti ordini di grandezza più lunga che il tempo di rassamento di elettrico tardi e quindi questo di fatto è il motivo per cui era sensato trascurare quei termini g-r nell'equazione per il portatore di maggioranza perché molto molto prima che questi termini di ricombinazione e generazione avessero un effetto sui portatori di maggioranza si era già mossa tutta la distribuzione dei portatori di maggioranza in modo tale da matchare quella dei portatori di minoranza e quindi in pratica è solo lì che di fatto uno vede gli effetti di ricombinazione della lenta equazione per i portatori di minoranza per illustrare questa fisica di queste due equazioni accopiate quindi di come si muovono accoppiatamente i due tipi di portatori facciamo un pari di esempi una è quella dell'inserimento dell'iniezione stazionaria di portatore di minoranza in un semiconduttore per esempio consideriamo un semiconduttore di tipo P una sbarretta di semiconduttore di tipo P e immaginiamo di essere in grado da un lato di iniettare degli elettroni nella banda di conduzione iniettiamo qua lui dice N per unità di aria unità di tempo N non è che sia precisamente un nome fortissimo sarebbe meglio chiamarlo JE visto che è la densità di corrente degli elettroni allora questo diciamo è l'iniezione di correnti da questa parte in banda di conduzione ma in banda di conduzione questi elettroni sono dei portatori di minoranza quindi qualcosa dovrà succedergli e cosa gli succede a questi portatori di minoranza è proprio l'equazione per il portatore di minoranza che ce lo dice immaginiamo di essere in una situazione in cui poi diciamo tutto è omogeneo non ci sono non ci sono campi elettrici e quindi di fatto nell'equazione che abbiamo qua i termini che rimangono saranno questi termini qua allora come come si si svolgono le cose beh di fatto possiamo andare a ricombinare il abbiamo un'equazione stazionale quindi diciamo non c'è derivata rispetto al tempo scusate siamo nel caso del semiconduttore tipo t quindi questa è l'equazione non c'è derivata rispetto al tempo non c'è campo elettrico o è trascurabile campo elettrico quindi abbiamo questi due termini qua da ricombinare portiamo un termine dall'altra parte dividiamo per la coefficiente di diffusione e ci troviamo con un n' diviso tau per d ora vi ricordate d la diffusione è una lunghezza al quadrato diviso un tempo lo moltiplichiamo per un tempo ci viene una lunghezza al quadrato e quindi potremmo andare a indicare questa come le al quadrato e quindi abbiamo un'equazione in cui appunto la derivata seconda della densità dei portatori rispetto allo spazio è uguale alla densità stessa rispetto divisa per una lunghezza caratteristica al quadrato e quando uno va risolvere questa equazione uno si trova in generale delle soluzioni di tipo esponenziale e siccome le equazioni di secondo ordine ci sono due soluzioni indipendenti ma naturalmente l'esponenziale che cresce a grande x è una soluzione impossibile da realizzare perché sicuramente non soddisfa le condizioni del contorno mica potranno crescere esponenzialmente il numero di elettroni lontani dal posto in cui sono stati iniettati quindi per le condizioni del contorno sicuramente C2 risulta pari a zero e quindi si avrà un decadimento esponenziale della densità di questi elettroni di minoranza dentro nel semiconduttore e notate un avvento esponenziale con una lunghezza di decadimento che è proprio data da quella lunghezza caratteristica che abbiamo appunto appena identificato lì quando uno poi questa equazione qua questa soluzione qua la matcha sulla condizione al contorno del fatto di stare iniettando questa JE questo numero di elettroni per unità di aria di tempo si accorge che diciamo questo è legato alla derivata di n rispetto a x per il coefficiente di diffusione questo vi dà appunto il numero di elettroni per unità di tempo che riescono a diffondere dentro è calcolata alla superficie di iniezione e quindi sostanzialmente questo sarà uguale a C1 diviso LE volte di E qua diciamo nel libro si sono sbagliati hanno dimenticato questo volte di E e questo vi permette di fissare C1 questa costante arbitraria nella soluzione a JE questo è dato del problema di numero di elettroni che vengono iniettati per unità di tempo di area volte LE diviso di E e quindi questa sostanzialmente sarà la soluzione l'andamento della densità in funzione della della X notate che senza questo di E questa cosa qua sarebbe sbagliata sarebbe dimensionalmente sbagliata non sarebbe la densità ok e quindi di fatto torniamo al plot qua vedete che vi trovate un andamento della densità delle deviazioni dell'equilibrio della densità che è esponenziale con la profondità dentro nel cristallo naturalmente questi elettroni che si stanno muovendo dentro nel cristallo portano corrente non è possibile che questi questi elettroni spariscano e basta perché la corrente qualcuno deve pur portarla quello che succede è che man mano che spariscono i portatori nella banda di conduzione il loro ruolo lo vanno a riprendere i portatori in banda di valenza cioè le lacune quindi questi elettroni che portano sempre meno corrente per mano che vi spostate dentro nel semiconduttore sono impiazzati dalle lacune che portano corrente naturalmente muovendosi in direzione opposta e andando sostanzialmente a impiazzare le lacune che vengono a essere soppresse dal decadimento degli elettroni dalla banda di conduzione la densità di corrente totale rimane costante all'interno della sbarretta di semiconduttore voilà quindi questo da un'idea di qual è il ruolo di questa lunghezza caratteristica legata appunto a questo lungo tempo a questa lunga vita media degli elettroni dell'ordine di una frazione di microsecondo un altro esempio ancora più divertente che vi mostra il funzionamento di questa di questa equazione è stato realizzato anche sperimentalmente e corrisponde all'iniezione di un impulso di portatori di minoranza quindi l'idea è che si la prende di nuovo una sbarretta di semiconduttore in questo caso qua per esempio è ottenuto trattato N vengono piazzati in due punti lungo la sbarretta due contatti metallici che è possibile collegare rapidamente a un generatore di differenza di potenziale con un interruttore che si può chiudere molto velocemente per un tempo molto breve beh in questa maniera qua quello che si ottiene nell'attimo preciso della chiusura del circuito è di iniettare in questa regione del più delle lacune e in questa regione del meno degli elettroni in bandana di conduzione ora questo è un semiconduttore drogato N quindi gli elettroni sono portatori di maggioranza e quindi in tempi estremamente rapidi questo densamento di portatori di maggioranza e anche il fatto che qua diciamo ci siano delle cariche positive non compensate è una cosa che deve venire curata dall'equazione per il portatore di maggioranza quindi se questa è la distribuzione in tempi molto molto vicini alla chiusura del circuito quindi in tempi minori di un picosecondo diciamo dalla chiusura del circuito appena lasciate passare poche volte questo tempo di rilassamento di elettrico del picosecondo dopo alcuni picosecondi l'equazione del portatore di maggioranza avrà eliminato l'addensamento di portatori di maggioranza da questa parte qua e avrà creato un addensamento di portatori di maggioranza tali da compensare esattamente quelli di minoranza su questo lato qua quindi a questo punto la distribuzione dei P' e dell'N' saranno uguali e rimarranno uguali poi via via lungo tutta l'evoluzione perché c'è questa equazione di portatori di maggioranza che se ne occupa di tenervi immediatamente uguali poi su scale di tempi molto più lunghe cominciano ad entrare in azione i meccanismi della diffusione dei portatori di minoranza e della ricombinazione allora il meccanismo della diffusione fa sì che questo addensamento fortemente piccato tenda pian pianino a sbrodolarsi ed allargarsi questo è il risultato del termine di Laplaciano di questo termine beh diciamo si sia nel caso N quindi proprio di questo termine qua contemporaneamente c'è il termine invece questo proporzionale alla densità assoluta dei portatori che invece tende pian pianino a eliminare ad attenuare l'integrale di questo picco quindi su tempi dell'ordine del microsecondo o qualche frazione di microsecondo questo picco tende ad attenuarsi e scomparire e si tende a raggiungere l'equilibrio quindi uno osserva in funzione del tempo un allargamento di questo picco e poi su tempi molto lunghi una completa scomparsa di questo picco se poi in aggiunta viene applicato anche un campo elettrico i portatori di minoranza lo seguono e ci si spostano quindi se voi applicate al semiconduttore un campo elettrico esterno i portatori di minoranza lo seguono e ci si muovono e questo è interessante perché questo succede a prescindere dal fatto che di fatto questa regione sia neutra non c'è una densità di carica ma non importa i portatori di minoranza seguono comunque questo campo elettrico esterno e si lasciano trascinare e in effetti la velocità con cui questi portatori si lasciano trascinare è proporzionale anzi è uguale al prodotto della mobilità dei portatori di minoranza volte il campo elettrico applicato e quindi in principio questo tipo di esperimenti si può utilizzare per andare a monitorare il coefficiente di diffusione quindi guardando la forma del picco che si allarga e la mobilità guardando la velocità con cui si sposta in un campo elettrico dei portatori di minoranza in questo semiconduttore va bene e qua potremmo considerare finito qua il capitolo 5 se non ci sono domande e dedicare ancora qualche minuto a devices a congegni costruiti basandosi su semiconduttori ok consideriamolo finito e passiamo per l'appunto al capitolo 6 che è il capitolo successivo in cui si racconta un attimino di applicazioni di questi semiconduttori drogati tecnologiche su cui va la pena dire qualche parola poi naturalmente chi è interessato particolarmente può seguire un corso specifico sulla fisica dei semiconduttori ok allora tipicamente diciamo fino a quando abbiamo considerato semiconduttori omogenei in cui tutto il semiconduttore aveva lo stesso livello di doping dappertutto naturalmente questa è la situazione meno interessante uno può fare delle cose divertenti con i semiconduttori quando comincia ad avere delle variazioni delle densità in funzione dello spazio e ci sono vari tipi di situazioni di questa natura qua e tipicamente quando si hanno giunzioni di contatto tra una regione drogata N una regione P di uno stesso semiconduttore oppure il contatto tra un semiconduttore un isolante o anche un metallo in realtà e poi il contatto tra due semiconduttori differenti ognuna di queste superfici interfacce dà delle proprietà particolari che vale la pena meno brevemente diciamo analizzare la situazione più semplice è quella della giunzione PN quindi il contatto tra due regioni una drogata P e una drogata N di uno stesso semiconduttore la prima situazione da considerare è quella di equilibrio quindi niente campi elettrici esterni applicati di fatto quello che uno può fare per ottenere una giunzione PN è partire da un semiconduttore drogato di un certo tipo e poi farci diffondere dentro droganti dell'altro tipo quindi partire da un semiconduttore drogato P per esempio e mandarci dentro una quantità abbastanza grande di dolori in modo tale da creare una regione soltanto in una parte creare una regione drogata N per esempio questa è una possibilità tecnica oppure ci sono tecniche epitassiali su cui magari dico qualcosa dopo ok a questo punto diciamo all'equilibrio tutto alla stessa temperatura deve crearsi un potenziale chimico uguale dappertutto immaginiamo di avere una concentrazione di dolori e accettori che varia sono in funzione di una sola coordinata x per semplicità quello che dovrà succedere è che a tutti gli x il potenziale chimico sia lo stesso d'altra parte però in una data regione il potenziale chimico è determinato da altre questioni da questioni di equilibrio nel bulk noi sappiamo quanto deve essere il potenziale chimico sappiamo bene per esempio che in un semiconduttore drogato N sarà vicino alla banda di conduzione e in un semiconduttore drogato P sarà vicino alla banda di valenza e quindi bisogna che questa condizione di averci il potenziale chimico uguale dappertutto si sposi con quest'altra condizione di averlo vicino alla banda di conduzione alla banda di valenza nel bulk lontano dalla superficie e questo viene realizzato con un piegamento delle bande di fatto quindi se avete qua una regione P in cui il potenziale chimico è vicino al topo della banda di valenza e qui una regione N in cui il potenziale chimico sta vicino al minimo della banda di conduzione beh quello che dovrà succedere in mezzo nella regione in cui si passa da N a P è che le bande si pieghino in modo tale da poi soddisfare queste condizioni di bulk lontano dalla giunzione PN che è questa regione qua allora in questa regione appunto di piegamento delle bande come potete osservare vi trovate con un potenziale chimico che è sempre costante ma rispetto alle bande è localmente lontano quindi a questo X qua il potenziale chimico è lontano sia dalla banda di conduzione che dalla banda di valenza questo vuole dire che lì all'equilibrio il numero di portatori la densità dei portatori nelle bande sarà sicuramente bassa molto molto bassa perché sono lontane dal potenziale chimico quindi in pratica si determina una regione che si chiama regione di svuotamento depletion layer in questa regione si si trova con pochissimi portatori di carica a causa appunto di questa lontananza dal potenziale chimico che deve matchare le due condizioni e questo determinerà anche in pratica questo piegamento delle bande una caduta di potenziale elettrico di fatto quindi si determina una regione con potenziale elettrico più alto e una regione con potenziale elettrico più basso sostanzialmente degli elettroni hanno viaggiato dalla regione N alla regione P hanno diffuso dalla regione N alla regione P delle lacune hanno diffuso dalla regione P alla regione N e questa diffusione ha lasciato delle cariche scoperte in questa regione di svuotamento rimangono scoperte le cariche dei nuclei dei nuclei delle impurezze quindi nella regione N ci sono questi donori ionizzati positivamente quindi c'è uno strato di cariche positive nella regione P ci sono gli accettori ionizzati negativamente quindi uno strato di cariche negative proprio questo doppio strato di carica determina un salto di potenziale tra una regione e l'altra e questo salto di potenziale è piazzato in modo tale da opporsi a ulteriore diffusione di elettroni quindi diciamo questa barriera di potenziale fa sì che gli elettroni da questo lato qua trovino difficile passare dal lato N trovino difficile passare nel lato P dove sarebbero dei portatori di minoranza e analogamente le lacune dal lato P dovrebbero difficile portarsi al lato N dove sarebbero portatori di minoranza dovrebbero risalire controcorrente questa barriera questa è un attimino questa è un attimino la situazione con la distribuzione di carica sul lato P abbiamo portatori di maggioranza che scomparino in questa regione di svuotamento analogamente sul lato N i portatori di maggioranza vengono abbattuti in questa regione di svuotamento questa è la densità di carica che vi ho appena descritto dovuto appunto alle impurezze e questo è l'andamento del campo elettrico in questa regione che ha sempre lo stesso segno è massimo al punto di giunzione e poi diminuisce all'incirca linearmente avvicinandosi al bordo di questa regione di svuotamento facendo delle assunzioni semplificatrici tipo che questa regione di svuotamento in pratica finisca molto sharply cosa non esattamente vera cioè non è che qui l'eccesso di densità di carica arriva a zero e boom in modo per tutto ripido fa esattamente zero ci sarà una regione intermedia di arrotondamento ma trascurandola in pratica qui c'è un andamento lineare del campo elettrico e un andamento parabolico quadratico del potenziale elettrico che dà origine un intero salto di potenziale elettrico delta phi naturalmente il potenziale elettrico sale andando dalla regione P alla regione N l'energia potenziale degli elettroni che ci hanno un meno qui davanti scende andando dalla regione P alla regione N il che corrisponde a questa figura qua questa figura qua è energia potenziale degli elettroni carichi negativamente e quindi è più bassa da questa parte e più alta da questa parte il potenziale elettrico invece ha il segno opposto voilà quindi questa diciamo la situazione che si determina l'equilibrio e qua c'è tutta una serie di equazioni che u che all vanno a stabilire per valutare quante grande è questa caduta di potenziale vedete vi viene una combinazione in cui c'è K Bt qui la carica alimentare questo vi dà una roba che ha unità di volt l'energia divisa una carica sono volt volt è logaritmo del prodotto delle concentrazioni dei donori nella parte N degli accettori nella parte P per il quadrato della concentrazione intrinseca dei portatori che vi ricordo è una funzione della temperatura e del gap di energia del cristallo che faceva dell'ordine di 10 alla 16 al metro cubo per il silicio e qualcosa più grande di 19 per il germano tanto per farsi un'idea allora se uno va a farsi il calcolo li viene fuori un salto di potenziale di circa 0,7 volt per il silicio e circa 0,2 volt per il germano quindi un salto che è un po' meno dell'ampiezza del gap come peraltro si vedeva benissimo da questa figura qua di fatto il potenziale chimico qui non è che proprio sta sul top della banda di valenza sta un po' più in su il potenziale chimico qua non è che sta attaccato al bottone della banda di conduzione sta un po' più in giù e quindi giustamente lo scalino che si forma è un po' meno del gap che nel silicio è circa 1,1 volt e quindi viene una cosa dell'ordine 0,7 volt ed è ovviamente funzione della temperatura ok inoltre l'altra cosa che si determina in Uccheola utilizzando i calcoli di equilibrio che avevamo fatto l'altra volta con queste semplici assunzioni di appunto di bordo rigido della zona di svuotamento che semplifica un po' le cose si riescono a valutare la grandezza l'ampiezza della regione di svuotamento sul lato N e sul lato P allora se uno va a guardare un attimino questa formula si accorge che è legata alle concentrazioni dei portatori più grandi sono le concentrazioni dei non dei portatori dei droganti scusate più grandi sono le concentrazioni dei droganti più piccole tendono a diventare queste ampiezze delle regioni di svuotamento quindi di fatto giunzioni pienne con drogaggio forte determinano delle regioni di svuotamento molto sottili giunzioni pienne con drogaggio debole invece danno le regioni di svuotamento belle, ampie e spesse per esempio con drogaggi dell'ordine di 10 alla 21 al metro cubo vengono delle regioni di svuotamento dell'ordine del micro di spessore aumentato il drogaggio vengono più sottili c'è una radice quadrata quindi vanno con una radice quadrata di questi livelli di droganno ok l'idea è che che poi diciamo uno può andarsi a vedere dettagli insomma di quello che succede a queste giunzioni quando uno va a poi a metterci un campo elettrico applicato se uno gli mette un campo elettrico nella direzione dal P verso l'N si parlerà di un bias diretto una polarizzazione diretta della giunzione e questa polarizzazione diretta ha l'effetto di ridurre la differenza di potenziale quindi va a spiattare la barriera vediamo se c'è una figura eccola qua quindi la barriera il salto di potenziale viene ridotto il risultato è che per gli elettroni diventa più agevole passare dalla regione N alla regione P e per le lacune passare dalla regione P alla regione N e quindi si ha un aumento anche rapido della corrente viceversa se si mette una polarizzazione inversa quello che succede è che la giunzione tende a avere un salto ancora più grande tende pure ad allargarsi ci sono delle formule che danno anche l'andamento della larghezza della giunzione quando applicate una differenza di potenziale la giunzione si allarga si separa di più e quindi tendenzialmente la corrente diminuisce che passa tendenzialmente a 0 si ha una corrente piccolissima in inversa nella situazione ideale diciamo uno può andare a stimare l'andamento della corrente con una formula di questo tipo qua c'è un contributo degli elettroni e delle lacune e entrambi vanno come E alla carica elementare per il potenziale applicato diviso KBT meno 1 in modo tale che quando il potenziale è messo uguale a 0 questo fa 0 giustamente non c'è corrente quando applicate 0 differenza di potenziale se mettete differenza di potenziale positiva questa corrente cresce esponenzialmente infetta per la differenza di potenziale negativa invece questa corrente tende a essere molto piccola uguale a questo I0 che è una corrente di generazione legata all'eccitazione di coppie elettroni della lacuna all'interno della giunzione e di cui i valori sono dati circa qua va bene questo di fatto vi suggerisce che questi diodi hanno una utilità come rettificatori naturalmente uno può utilizzare questi diodi per esempio per trasformare corrente alternata in corrente continua e questo diciamo è la modalità tradizionale di utilizzo che viene utilizzata ancora naturalmente appunto si può impedire alla corrente di andare in una delle due direzioni ecco qua c'è la curva di risposta esponenziale di questi congegni d'altra parte però c'è tutta una serie di altre applicazioni che uno può utilizzare per esempio l'andamento in inversa in un diodo reale non è che sia inevitabilmente una corrente piccola e costante e basta nei diodi reali a un certo punto c'è un breakdown c'è una situazione in cui all'improvviso comincia a passare corrente e questo permette per esempio di utilizzarli come stabilizzatori di corrente e questi sono quelli che si chiamano i diodi Zener oppure ci sono degli utilizzi come variatori di capacità la variazione dello spessore della giunzione determina un condensatore il cui valore di capacità dipende dal voltaggio applicato quindi può utilizzare dei diodi come delle capacità di cui può variare il valore cambiando semplicemente una differenza di potenziale ma un utilizzo ben più vasto e ben più più diffuso di questi diodi è in operazione di otto elettronica cioè nella generazione di luce sia come light emitting diodes cioè led sia come laser in effetti nella giunzione Pn vengono iniettati dalla corrente che sta passando vengono iniettati degli elettroni in una regione P e delle lacune in una regione N quindi abbiamo una seria concentrazione di portatori di minoranza scusate quando questo succede questi portatori di minoranza sono portati a decadere ricombinarsi e se uno va a scegliere un semiconduttore di tipo diretto a gap diretto questa ricombinazione avverrà facilmente in maniera radiativa quindi emettendo fotoni questo è il principio di funzionamento dei diodi led che a questo punto sono diventati il metodo standard per creare luce nelle nostre case nelle nostre strade semiconduttore a gap diretto in cui appunto questo ricadimento delle coppie elettroni della lacuna rimette direttamente luce e la luce che viene emessa tendenzialmente è colorata ha una lunghezza d'onda legata al salto di energia del gap è praticamente vicina è piccata all'energia del gap non è monocromatica ma è abbastanza vicina a quell'energia lì per produrre luce bianca ci sono una serie di trucchi tipo combinare led di colori diversi oppure mandare la luce di un led blu che ha lunghezza d'onda corte su un fosforo che la trasforma in luce bianca quindi queste sono le tecniche standard per fare luce bianca nelle lampadine che si compro al supermercato naturalmente è tutta una serie di difficoltà per questi led legati alla generazione di luce con i led la principale di tutte è il fatto che l'inicio di rifrazione dei semiconduttori tende ad essere alto ed è tipicamente difficile fare uscire luce da un materiale a indice di rifrazione alto verso un materiale a indice di rifrazione basso come l'aria e questo è dovuto alla grossa probabilità di riflessione interna totale quindi diciamo per riuscire a utilizzare in maniera pratica questi congegni si sono dovuti fare tutta una serie di trucchi di superfici di truccare superfici di questi materiali in modo tale da essere in grado di far emettere di far passare fuori la luce con dei coatings e dei vari trucchi però diciamo a parte questi ghippi pratici di fatto i led sono diventati la sorgente più efficace di luce ormai disponibile invece l'altro utilizzo che dicevo è quello di laser perché in effetti è possibile determinare un'inversione in popolazione cioè trovarci in una situazione in cui nell'aggiunzione ci sono più stati occupati nella banda di conduzione di quanti ci siano stati occupati nella parte alta della banda di valenza un'enorme densità di argume in pratica questo in biodi fortemente drogati e in questa maniera qua è possibile appunto costruirsi dei laser aggiunzione quindi avere un'inversione in popolazione iniettare con una corrente i portatori nella regione di svuotamento e qui di fatto procurarsi un'inversione di popolazione l'utilizzo di gran lunga quantitativamente più importante dei diodi in realtà è quello delle celle solari più importante dal punto di vista quantitativo tipo non so 90% di tutto il silicio che viene prodotto nelle fonderie di silicio in realtà è utilizzato per fabbricare celle solari che sono dei diodi i quali funzionano al contrario di un led in pratica la luce solare promuove delle coppie elettrone lacuna nella regione di svuotamento e intorno e queste coppie elettrone lacuna vengono guidate dal campo elettrico dell'aggiunzione sul giusto lato quindi gli elettroni vengono spinti sul lato N e le lacune vengono spinte verso il lato P e questo determina una generazione di una differenza di potenziale che poi può venire raccolta con degli elettroni e utilizzata per la produzione di corrente elettrica ok oltre ai diodi quindi giunzioni di regioni drogate in maniera diverse dei dei semiconduttori altre possibili applicazioni di semiconduttori non omogenei è il transistor a giunzione su cui non mi starò particolarmente a fermare sono di fatto due giunzioni messe affacciate una all'altra in cui la corrente in una giunzione controlla la corrente nell'altra quindi permette amplificazione questa è una tecnologia utilizzata molto negli anni 70 che però è un po' in scomparsa al giorno d'oggi c'è poi c'è questo JugFET Junction Gate Fill Effect Transistor che secondo me non nessuno utilizza più da un sacco di tempo mentre la tecnologia di gran lunga più utilizzata al giorno d'oggi è il MOSFET quella che viene fabbricata e utilizzata su scala larghissima questi MOSFET cioè metallo, oxali e semiconducto dei semiconduttori in quella tecnologia metallo, ossido e semiconduttore permettono di controllare una corrente tramite un potenziale elettrico quindi fare un lavoro simile a quello che facevano i transistor di aggiunzione di cui ho appena accennato ma con tutta una serie di vantaggi pratici e tecnologici l'idea è illustrata un po' in questa figura qua uno ha un semiconduttore debolmente drogato con sopra uno strato di isolante in pratica di ossido di semiconduttore stesso ossido di silicio sopra qui è depositato uno strato metallico diciamo il semiconduttore di fatto è circa un isolante viene configurato come se avesse di fatto due giunzioni di cui almeno una è polarizzata inversamente dopodiché però cambiando il potenziale su questo metallo quindi mettendoci un potenziale positivo vengono piegate le bande in questa regione qua fino al punto in cui in questa regione qua cominciano a esserci abbastanza elettroni e di fatto diventa conduttiva la regione vicino alla superficie del semiconduttore diventa conduttiva e quindi si riesce a far passare una corrente semplicemente applicando un potenziale al di sopra di questo ossido quindi di fatto il segnale di input è solo un potenziale la corrente coinvolta è praticamente nulla e questo permette di far controllare delle correnti anche molto importanti addirittura si può aumentare molto questo potenziale fino ad arrivare in una situazione in cui il gas di elettroni che si è raccolto nella regione vicino alla superficie raggiunge addirittura una situazione di gas degeneri cioè la distanza tra il fondo della banda di conduzione e il livello di fermi è tale per cui di fatto non è più un gas classico ma ci si trova proprio nella regione in cui la funzione di fermi va utilizzata per la sua descrizione costruttivamente la struttura è questa cioè uno si trova con un semiconduttore debolmente drogato P per esempio due zone drogate molto fortemente con N e qui sopra depositati tre elettrodi questi per far passare la corrente che uno vuole controllare e questo gate per andare a controllare la possibilità degli elettroni di passare in questa regione qua se il gate vi è lasciato a zero qua gli elettroni non possono passare perché di fatto una di queste due giunzioni NP è polarizzata in inversa come avere un diodo che non conduce quindi anche se voi qua applicate una differenza di potenziale di qualunque segno non avete corrente ma non appena cominciate a polarizzare positivamente il gate cominciate a tirare elettroni in questa regione superficiale che permette di passare corrente di mettere a contatto le due regioni fortemente drogate positivamente qua costruttivamente è abbastanza facile realizzare questi congeni questi mosfet di fatto ci sono queste tecniche di foto con di foto resist e appunto con delle maschere che permettono appunto di fare una successione di processi di drogaggio di scavaggio di protezione di deposito di vari materiali ottenendo quindi delle strutture ben programmate non su scala di 1 né su scala di 10 di questi oggetti ma su scala dell'ordine al giorno d'oggi di tipo di 10 alla 7 al millimetro cubo di questi transistor che poi vengono combinati con resistenze e di o di altre componenti ottenendo quindi i processori integrati su fogli di silicio su stratellini sottili di silicio che poi vengono utilizzati per tutte le applicazioni della microelettronica moderna la componente fondamentale è questo mosfet di fatto oltre a queste tecniche top down diciamo in cui uno prende un cristallo e poi lo roga lo scava lo ossida e li mette sopra dei materiali eccetera ci sono tutta una serie di tecniche bottom up in cui viene utilizzata l'epitassia per fasce molecolari cioè vengono depositati strati di semiconduttore sopra un substrato e questa epitassia ha tutta una serie di requirement tecnologici ma permette diciamo di costruire oggetti come dei sandwich di materiali diversi come per esempio il segno di gaglio il segno di gaglio alluminio che sono semiconduttori a gap leggermente diversi e questa alternanza di strati di semiconduttori diversi permette di costruire un sacco di nuovi congegni come appunto dei reticoli efficaci o dei diodi o dei laser con delle proprietà migliori di quelle che uno può fare con dei semplici diodi va bene appunto è un campo vastissimo non ci dobbiamo fermare qua ma qualcosa valeva la pena dire di questo mondo dei semiconduttori ci sono domande ok